A noi siamo per una regolamentazione dei social, nel senso che io penso che bisogna stare molto attenti, sono armi che possono far male. Io sui social cerco di rispondere ai cittadini che mi fanno domande, perché? Perché se no non servono a niente, a che servono? Solo a fare proclami. I toni che stanno assumendo i social sono di una violenza inaudita e ci sono migliaia e migliaia di adolescenti, noi abbiamo proposto di vietare efficacemente ed effettivamente fino a 14 anni i social, che si ammalano per esempio di malattie dell'alimentazione perché stanno troppo presto e troppo sui social. Tutto questo va regolato.